E chiudiamo parlando di sport, oggi sono stati presentati due nuovi acquisti del Treviso e Calcio Tarantino e Picone, due nomi di sostanza che chiude il mercato in entrata. A presentare i due nuovi arrivi ci ha pensato il direttore generale Mario Santoro, il nuovo arrivo è Tarantino. Il giocatore è stato oggetto di una lunga e intensa crattativa durata due mesi, dove a contendersi il centrale offensivo contro il Treviso sono state Avellino, Salernitana e Latina. Nazareno Tarantino è un giocatore di esperienza con molti anni in Serie B, che dovrà illuminare il gioco ed essere di esempio per i compagni di squadra. Mi ha convinto il progetto, in modo in cui mi hanno corteggiato, come ha detto anche prima il direttore Santoro, nei due mesi di trattativa. Sono un giocatore che guarda soprattutto il rapporto umano, quindi a livello umano mi hanno subito convinto, sono stati molto chiari nel confronto sia telefonico che negli incontri che abbiamo fatto di persona. Alla fine ho deciso di venire qui a Treviso perché diciamo che dopo dieci anni di sud volevo anche ritornare a respirare un pochettino l'area del nord. L'augurio dei tifosi è che non faccia rimpiangere Torromino. Ogni volta che c'entrò in campo sia un minuto, sia 10 minuti che 90 minuti darò il massimo per il Treviso. Un grande arrivo anche in attacco con Piccone, un giovane del 91 capace di segnare 8 gol in 16 presenze in Lega Pro 2. Un attaccante di peso e stazza con 190 cm di altezza, capace anche di far salire la squadra. Con questi due arrivi si è chiuso il mercato di entrata, raggiungendo i 23 giocatori necessari, a meno che non ci sia ancora qualcosa in uscita. E dopo i nuovi arrivi, fuori dallo stadio troviamo anche uscite di lusso. Massimo Perna. Ma gli auguri ai ragazzi di fare un ottimo campionato, non dico come gli anni passati perché sarà difficile, però un campionato ai vertici e togliersi la soddisfazione. Ma solo per tutti i giocatori che sono rimasti l'anno scorso e questi nuovi che anche se non conosco, gli auguro tutti i beni di questo mondo.